Senti ciccio, ti sembra il caso? Io non lo so, tra 45 minuti deve essere tutto pronto, ricordiamo ancora la barra e le stoviblie, preparare i tavoli, comincerà tra un'ora e un'ora e mezza arrivare la gente, dimmi te che figura facciamo? Oh, cosa fai? Capite di non sentirmi? Ma no, ma certo che ha finito la benzina, non la mette mai, ma aspetti, ma no, ma io non so, ti la spingi 10 minuti e fai prima, no? Sì, certo, facciamo quelli che vogliamo risparmiare, facciamo i vincoli proprio a tutti gli effetti. Ma guarda, qui ci sono i biglietti della Lotteria Democratica, abbinata alla festa democratica di Bussana, cioè ti compri un biglietto di 2,50 euro e dici 500 euro di carburante, ma dai. mette, ecco, e tu compri un blocchetto intero, sono i tuoi, così risolviamo il problema e vediamo che dirlo, se risolviamo veramente il problema. Allora ci vediamo al Bussana, ma sì, dai, da 20 agli ultimi due weekend facciamo una festa democratica, 29 e 500 euro di carburante, tanto. A me la sta zitta e... Certo, perché c'ho sempre ragione, d'accordo, eh? Certo, che ce n'è. Vinci un viaggio dove vuoi tu, con la demo lotteria abbinata alla festa democratica di Sanremo. Cosmo del biglietto 2,50 euro, estrazione domenica 29 luglio, ore 23.30. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!